La festa più pazza del mondo anche quest'anno dopo la pandemia riparte, sarebbe la quarantesima edizione, in realtà abbiamo saltato due anni e l'anno scorso abbiamo fatto una versione più ridotta al cortile San Rocco. È nata nell'84, è cambiata nel tempo però lo scopo è sempre quello, quello di condividere e questo è il titolo anche di quest'anno, la vita condivisa, condividere le cose belle e significative che abbiamo incontrato in questo anno e che vorremmo fossero a disposizione di tutti. Io sono Natelao un'artista del festival quindi appunto canterò i miei brani ma anche magari cover, adesso vedremo, non so ancora la scaletta precisa, ci saranno con me anche altri sei artisti, in totale saremo sette, una bravissima presentatrice e lo scopo è far conoscere a Carpi e a tutta la cittadinanza gli artisti emergenti, ce ne sono tanti, vorremmo dare forza alla nostra voce. Si svolgerà tra il cortile d'onore del castello di Carpi dove ci saranno gli incontri alle 19 venerdì, alle 18 sabato e domenica e il piazzaria Reassolfo dove ci sono i concerti e ci saranno tre mostre molto molto significative che vi invito sulla fotografia, un'altra sul lavoro e un'altra su un chirurgo molto speciale che può ispirare il lavoro di tanti e poi il banco libri e la zona Ristoro è sempre lì tra il cortile d'orea Stolfo e la Sagra.